Presidente, tredicesima conferenza nazionale di statistica, un nuovo bel traguardo. Quali sono i principali contenuti di questa edizione 2018? Abbiamo scelto proprio nel titolo di partire dall'incertezza per invece arrivare a una decisione consapevole insieme, secondo un percorso insieme. Crediamo che oggi abbiamo bisogno di cooperare, di dare valore all'interazione con i nostri utilizzatori, gli altri produttori per riuscire a migliorare l'informazione per i cittadini e i policymaker. Quindi le parole chiave sono integrazione delle fonti per sfruttare l'intero patrimonio disponibile, per arricchire prodotti e servizi statistici, per facilitare la comprensione dei grandi cambiamenti che ci sono nella società e soprattutto farlo insieme agli utilizzatori in modo da produrre queste cose rilevanti ai loro figli.